Alvini è un nuovo affondo di grillo dal suo blog, il PD scrive di Democratico a solo un pezzo del suo nome mentre prosegue la mobilitazione in Italia e all'estero del Movimento 5 Stelle e oggi tappa a Madrid con Di Maio mentre da Aosta è partito il treno tour Io Dico No che porterà i rappresentanti del Movimento in giro per l'Italia per spiegare le ragioni del no. Per me è inaccettabile che con l'Italia come il 70% quasi dei deputati verrà scelto dai partiti politici e con queste riforme elettorali il 100% dei futuri senatori verrà scelti dagli stessi partiti politici che hanno distrutto tutto.